Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Kiko SRL, un'azienda campana che è alla seconda generazione e ci troviamo in compagnia di Cristian Iovine, il responsabile di produzione. Cristian benvenuto. Grazie a tutti e buongiorno. Cristian qual è la storia di Caffè Kiko in un minuto? In un minuto Caffè Kiko è un'azienda che nasce con mio padre verso fine anni 90, è nata inizialmente con il caffè per la linea bar, poi con l'inizio anni 2000 con l'avvento di mio fratello si è implementato il mondo cialde e poi in seguito con il mondo capsule. Oggi facciamo principalmente monoporzionato in diversi tipi di miscele e diverse tipologie di capsule compatibili, più o meno facciamo 10 tipi diversi di capsule oltre alle cialde, il caffè per distributore e la linea bar. Tutto rigorosamente in casa? Prodotto tutto in casa, noi abbiamo preso la decisione anni fa di produrci tutto da soli perché vogliamo seguire dall'A alla Z all'intero procedimento di produzione. Christian, quali sono le caratteristiche principali dei vostri prodotti? Perché un gestore, un utente che è dedicato alla vendita attraverso i negozi dovrebbe acquistare o provare proprio i vostri prodotti? Noi come azienda puntiamo a fare un prodotto di qualità a un prezzo giusto. Facciamo diverse tipologie di miscele in modo da adattarci a diversi tipologie di mercato, quindi partiamo da una miscele un po' più forte e più corposa per il mercato napoletano, andando verso miscele via via più arabica, adattarci a tutti i tipi di prodotti nazionali e no. Ecco io ho voluto farti questa domanda un po' a trabocchetta, un po' insidiosa perché in realtà quando mi avete offerto il caffè per poco fa, prima di iniziare l'intervista, ho detto ma questo è particolarmente dolce, sarebbe molto interessante da far provare appunto a coloro che rivendono il prodotto, ma naturalmente loro dovrebbero incuriosirsi in questo marasma di tante marche di caffè e quindi era ancora meglio farlo dire da te. Quante sono dunque in questo caso le miscele che voi realizzate solo per la linea bending o CS? Allora noi sia per la linea bending che per il monoporzionato abbiamo quattro tipologie diverse di miscele che vanno da un 80% robusta a 20% arabica a un 60% robusta a 40% arabica a un 50 e 50, oltre ovviamente alla miscela decaffenato che è presente in tutte le sue forme. E allora per coloro che sono dall'altra parte essi sono un po' incuriositi e desiderano dunque entrare in contatto con voi. C'è un sito al quale fare riferimento per guardare i vostri prodotti e magari un indirizzo email per potervi scrivere senza alcun impegno, per poter richiedere informazioni sui prezzi, sulle forniture, sulle modalità di pagamento, sulle tipologie di prodotto da acquistare? Certo, come no? Noi abbiamo un sito che è www.caffeachico.it, un indirizzo email per richiedere informazioni che è appunto info.caffeachico.it, oltre ad essere presenti tutte le tipologie di social che oggi comunque sono un ottimo mezzo di comunicazione per intracciarsi e tenersi in contatto in qualsiasi parte del mondo. Bene, e allora io ti ringrazio per la squisita collaborazione, sono assolutamente certo che prossimamente riusciremo a parlare anche sui nostri strumenti bendingnews.it e la rivista Bending News di Caffè Chico SRL. Cristian, grazie! È stato un vero piacere e per chiunque ci voglia conoscere noi siamo qui! Grazie a tutti!